Le bombe d'acqua che ha intermittenza da venerdì sera fino a domenica hanno investito il nostro territorio, hanno fatto scattare l'allerta in codice rosso per elevato rischio idrogeologico. La situazione più critica è stata rilevata a Val di Sotto dove per pericolo esondazione dell'Adda l'amministrazione comunale ha avvisato una decina di famiglie di Santa Lucia dell'eventuale possibilità di una loro evacuazione, poi fortunatamente mai avvenuta per il rientro dell'emergenza. Ma in questo momento la situazione è tornata abbastanza sotto controllo, il livello del fiume Ata, la soglia è tornata nel limite giusto quindi adesso se la situazione del tempo non peggiora siamo tornati quasi alla normalità. C'è stata preoccupazione per alcune famiglie residenti a Santa Lucia? C'è stata un attimo di preoccupazione per quelle famiglie che stavano vicino al fiume Adda perché c'è stato un momento che la soglia si era alzata moltissimo però è sempre stata sorvegliata dalla protezione civile quindi eravamo pronti a fare evacuare tutte queste famiglie vicino al fiume però siamo riusciti a tenere la situazione sotto controllo quindi non è successo niente, per fortuna. Riaperta anche la provinciale numero 27 tra Tola e Aquilone, chiusa venerdì per il rischio esondazione del torrente Novalena che invece grazie ai lavori di pulizia dell'alvio effettuati non è esondato. Riaperta la statale dello Stelvio dal chilometro 104,500 al chilometro 121,100, chiusa al transito sabato scorso per pericolo smottamenti. Il tratto da domani fino a venerdì 4 settembre verrà sottoposto a lavori di manutenzione con l'installazione di impianto semaforico e regolamentazione della viabilità a senso unico alternato. A Sernio è stata riaperta al traffico la strada che dalla frazione di Biolo sale fino a refreddo, chiusa sabato 22 agosto per una colata detritica di 15.000 metri cubi che aveva investito il ponte in località Ciaresa. Rientrata anche l'emergenza Sondrio dove ieri è stata chiusa a livello precauzionale la strada che collega Ponchiera a Arquino per rischio caduta massi. Dopo i sopralluoghi di questa mattina l'emergenza è rientrata e la strada è stata riaperta. Ieri mattina su suggerimento del nostro geologo e dopo un sopralluogo dell'ufficio tecnico abbiamo chiuso la circolazione veicolare pedonale questa strada che dalla frazione di Ponchiera conduce la frazione Arquino precauzionalmente per un accumulo detritico verificatosi a monte della Val Molinera appena qui avanti di circa 2.000 metri cubi di detriti di materiale accumulatosi a seguito delle precipitazioni nel corso degli anni. È stata una chiusura di carattere prudenziale. Questa mattina si è verificato un ulteriore sopralluogo a cura del nostro ufficio tecnico e del geologo e i cui esiti sono stati tranquillizzanti, il materiale stabile per cui abbiamo deciso di riaprire l'arteria e la circolazione. Ovviamente continuerà ad essere monitorata anche in relazione ad eventuali precipitazioni forti. Il materiale andrà rimosso e a breve l'ufficio tecnico affiderà l'incarico per la rimozione del materiale.